E' essere un'artista multimediale per me è un insieme di cose, collaborare con altre discipline artistiche, pensare sempre a 180 gradi, se non di più, non limitarsi a un mezzo, sperimentare continuamente, essere molto versatile. Come solitamente dico, il passaggio dalla pittura o dall'elemento tradizionale alla nuova tecnologia, allo strumento d'avanguardia è stato un passaggio naturale, non sforzato, quindi collaborare, questa è la strada che ritengo interessante oggi nell'arte contemporanea, collaborare con altre persone, altri artisti, discipline distinte, compositori, ballerini, e intendo sempre ad ampliare questo team che ogni volta cambia, ogni volta esegue le mie esigenze. Grazie, il workshop che ho proposto all'inizio di Urbino è un nuovo workshop, è High Tech Books, è un progetto che sentivo di associare al libro, all'editoria, a tutto l'aspetto di lettura, il lato virtuale, la realtà aumentata, trovare una connessione tra entrambi. Io ho offerto i miei mezzi, i miei strumenti e ho guidato gli studenti, lasciando lì comunque molta libertà sull'aspetto creativo. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto, tutti sono stati molto interessanti, i progetti stessi, i libretti che poi sono stati stampati e messi sotto il progettore hanno avuto un buon risultato e ho raggiunto quello che mi aspettavo. Grazie.